Noi ci divertiamo molto e poi lo scopo è quello della beneficenza, quando noi possiamo liberarci magari dagli impegni lavorativi, da un po' di anni a questa parte siamo sempre presenti. Poi la festa dei nonni, ripeto, io ho un bellissimo rapporto con i miei nonni, ho 25 anni quindi sono stati fondamentali per me finora, loro andando avanti con l'età magari tornano un po' bambini, hanno bisogno di una mano, noi siccome siamo giovani, forze nuove dobbiamo dargliela, perché loro ci hanno cresciuto e quindi io mando un bacio a tutti i nonni, un augurio meraviglioso e con tanto amore.